ciao ragazzi eccoci qui mini telecaster progetto finito se avete visto il video precedente e sapete già che avevo insomma provato a cambiare il ponte e ridipingerla era nera prima pulire i tasti e tutto quanto cambiare le corde faccio vedere questa è una maggiore quindi potete vedere che è un po più piccola se non mi sbaglio è 84 cm ecco qui il risultato finale cambiato il ponte ho messo le 6 6 saddle perché ce n'erano delle altre che non tenevano l'accordatura quindi ho messo quest'altro e vi faccio sentire come si su come si sente non ricordo se l'avevo già detto ma queste chitarre mini ecco in generale tutte le chitarre con un manico più corto non si riescono ad accordare in appunto in la normalmente e quindi questa è stata accordata un po più più alta in sol praticamente suonando un minore dovrebbe essere sol si faccio sentire qualcosa col canale pulito e poi andiamo anche in distorsione quindi questa era una backing track che ho messo su youtube in sol minore andiamo andiamo a suonare a scala di mi minore e poi andiamo a suonare a scala di noi faccio sentire distorsione faccio sentire distorsione Grazie a tutti Sento un po' più difficile suonarla qui perché l'action è un po' alta O comunque i tasti essendo più piccolini bisogna prendere l'abitudine E' un tempo impegnativo E' un tempo impegnativo Proviamo qualche altro affetto un po' più cattivo Grazie a tutti Insomma che dà troppo feedback Fermo tutto un attimo Nulla sicuramente è una buona chitarra per allenamento Costa poco Da viaggio si può trasportare un po' più facilmente delle altre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mini telecaster Per oggi è tutto Buona suonata Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti